Ebbene ragazzi, di nuovo ben ritrovati, come potete vedere vento forte, aria fresca, va bene, va bene così ci vuole dopo un'estate bollente, almeno per quanto riguarda il mio punto di vista fatta questa premessa, partiamo subito con la nostra intro Ben trovati ragazzi, ben trovati a tutti voi per questo ennesimo video di questa giornata è un video che vado a fare in chiusura della giornata, perché? Perché oggi ho voluto dare delle priorità diverse tra proposito delle priorità è il primo video che ho fatto oggi, no? Sua Lazio, vabbè ho voluto dare delle priorità diverse appunto ai video e era importante il discorso societario era importante rispondere alle vostre domande e chiaramente nell'ordine di quelle che sono le mie modeste priorità ecco a fare l'ultimo video che è quello riguardante appunto il nostro fantacalcio quindi andiamo a vedere cosa abbiamo combinato in questa seconda giornata di fantacalcio so che molti siete curiosi di saperlo, quindi andiamo tutti insieme a vedere cosa è accaduto e poi ne parliamo insieme facendo anche un'attenta analisi Via! Grazie, prima di procedere con il conteggio di questa seconda giornata del nostro fantacalcio andiamo a dare brevemente un'occhiata a quella che era la classifica come potete vedere chiaramente con noi, con la mia squadra al terzo posto che insomma ha fatto registrare il terzo miglior piazzamento della prima giornata questo chiaramente ci ha permesso come ho detto la scorsa settimana di partire con il piede giusto andiamo a vedere il calendario ragazzi però in questo momento andiamo a vedere il calendario della seconda giornata per farci un'idea di come potrebbe essere andata questa giornata vi dico la vita, le sensazioni in so buone per niente so sincero, andiamo un pochino a vedere allora, ecco appunto allora, il portiere mi ha preso quattro pippi quindi ragazzi miei ho giocato col portiere che ha preso uno quindi è come se avessi giocato con uno in meno difesa, male Parisi male Voevoda, male Marusic ci si salva solo Dodò quindi per quanto riguarda il bonus difesa sono fregato sono proprio fregato non c'è il bonus difesa andiamo ad analizzare il centrocampo Chukwez è bene Rabiot 6-0-5 ci può stare Barella 6 Decatelar 6 il centrocampo fa il suo senza però regalarmi nulla di eccezionale andiamo ad analizzare l'attacco dove c'è Chiesa che prende un 5,5 e Osimène che fa 7 più 3 e 1 come gol decisivo della partita ok il rammarico c'è e lo vedete qui in panchina ma col senno di voi è facile dove c'è Retequi che avrebbe portato un 7 più 3,11 allora ragazzi io non vi nascondo una cosa io sono molto indeciso perché in teoria per come per come ho fatto l'attacco in teoria io potrei giocare tranquillamente con le tre punte proprio senza con le tre punte senza troppi problemi il problema è che quest'anno voglio puntare su il modificatore della difesa modificatore della difesa che nella prima nella prima giornata mi ha portato bene mi ha fatto avere punti qui andando a rivedere un attimino nel dettaglio la cosa attenzione a questo fattore perché Osimène è il capitano quindi Osimène mi ha portato bonus doppio quindi Osimène mi frutta 15 3 più 1,4 per 2 fa 8 sommato al voto 7 fa 15 ma nel complesso non credo di riuscire ad andare a punti è vero che quest'anno ci vanno 20 squadre a punti lo dico prima di fare il calcolo mi accontenterei tranquillamente di prendere qualche piccolo punticino giusto per andare a smuovere la classifica andiamo un attimino a calcolare la giornata seconda giornata pronta per il calcolo giornata calcolata torniamo indietro e andiamo a vedere rapidamente come è andata allora Palermo prende 25 punti Eagles 1900 20 punti Peppe 20 punti anch'esso AC Parma 17 Muppet 16 AS Cris 15 AC Picchia 14 la Cremonese di Giuliano 14 Mone 17 ne prende 12 Rintin Team 11 Real 10 New Team 9 Team Massimo 9 insieme a Mai Una Gioia 6 Pelovetto di Pasqua insieme a Naples Sporting 7 4 punti Liverpool 4 Fabio 10 Meridio 2 e AC AC 2 purtroppo noi non andiamo a punti ma posso dire la verità giustamente perché è stata una giornata nera 81 e mezzo sono quelli che hanno preso gli ultimi punti noi abbiamo fatto 68 e mezzo un disastro ragazzi cioè un disastro totale un disastro totale ragazzi miei l'unica cosa al quale ci siamo potuti appellare come vi dicevo ci abbiamo avuto ancora una volta il modificatore di rendimento che comincia piano piano a diventare una costante e il capitano che mi ha dato 5 punti in più pensate se non avessi anziché pensare in positivo pensiamo pure in negativo come è giusto che sia pensate se non avessi messo Osima in capitano avremmo fatto 62-63 punti insomma ragazzi la verità è che abbiamo meritato di non andare a punti in questa giornata e quindi la classifica giornata è questa qui con Palermo in testa a 35 punti AC Parma secondo a 34 punti Peppe 33 San Clementese 25 Vetto di Pasqua 23 Eagles 1922 arriva lo squadrone 20 Liverpool 19 AS Chris 19 noi comunque stiamo a un buon decimo posto a 18 punti poi Mappet 16 la Gremonese di Giuliano insieme a team Massimo 15 Milan Real Lib Accipicchia 14 Juventus FC e Mone 17 12 punti Fabio 10 Meridio Lazio Luiz Lintin Team 11 punti Sporting 7 New Team Maina Gioia 9 punti Attenti a Camata 8 punti Eagles 7 Naples 6 Acitua 2 SS Magic 1 Questa è la classifica e poi piano piano chiaramente ci stanno tutte le altre 80 partecipanti delle 80 partecipanti in due giornate sono andati appunti 29 squadre 29 squadre appunti nelle nelle prime due giornate ragazzi quindi vuol dire che molte di queste 29 squadre sono andate a punti in entrambe le giornate chiaramente cosa colpisce più di tanto in questa prima session in questo inizio di nostro campionato per esempio mi colpisce Tifosetta Ardita che sta ancora a 0 punti mentre ad esempio il campione in carica di arrivo allo squadrone comunque attestato al settimo posto a 20 punti ragazzi quest'anno attenzione a dare la lettura ai distacchi in classifica perché col fatto che vanno a punti 20 squadre è facile recuperare quindi intanto è vero che lo dimostra la classifica che è molto legata come potete vedere quindi è molto molto facile riavvicinarsi e recuperare il tempo perso faccio un esempio arriva lo squadrone 20 se Palermo stava 80 90 allora c'era da preoccuparsi come distacco ma un distacco di 10 15 20 anche 25 punti ma secondo me anche 30 non deve creare allarmismi cambia solamente il modo di leggere i punti insomma quindi non è andata bene nello specifico per il sottoscritto che però si attesta e comunque rimane scusatemi che comunque rimane a un buon decimo posto in classifica prossima settimana obbligatorio per rimanere nella zona alta della classifica è obbligatorio assolutamente andare a punti altrimenti si va nelle retrovie finisce questo secondo video dedicato al nostro fantacalcio ditemi nei commenti come sempre come è andata la vostra squadra qual è il vostro rammarico o chi vi è trascinato in questa giornata io mi fermo qua vi do appuntamento al prossimo video e come sempre viva il fantacalcio grazie a tutti Grazie a tutti.